Buonasera e bentornati ad una nuova puntata della rubrica delle mamme. Oggi abbiamo qui con noi Felicia Lotito, una giovanissima ostetrica e peer del portare, che ci illustrerà e ci parlerà dei benefici delle cosiddette fasce e marsupi ergonomici important fund. Felicia, allora, l'importanza del portare, soprattutto i benefici che possono derivare dal contatto mamma-bimbo. Buonasera a tutti. Quando parliamo di portare, principalmente parliamo di contatto e di trasportare questi bambini in braccio. Come tradotto dall'inglese baby wearing significa proprio indossarli e questi supporti come la fascia o il marsupio lo consendono in una maniera tale che non rovinino quella che è la fisiologia del neonato e non forzino la loro postura. Il contatto è un istinto che nel neonato nasce dalla nascita, quindi lui ce l'ha, così come l'istinto di nutrirsi, andare verso il genitore e la mamma principalmente e ciucciarsi. Allo stesso modo lui ha bisogno di contatto e di creare al di fuori una situazione che è come era all'interno dell'utero, quindi una situazione che sia contenitiva, rassenerante, tranquillante. E quello che era il periodo endogestazionale, quindi un contatto continuo che la mamma gli garantiva, cerchiamo di ricrearlo nell'esogestazione, quindi nei nove mesi dopo, attraverso l'utilizzo di questi supporti. Diciamo che nel nostro territorio quello che più ne vale è che questa pratica del portare ora sta prendendo piede e mi fa veramente felice perché vedo e abbiamo visto sempre magari supporti che non sono stati ergonomici e che forzavano le posture dei neonati e che invece oggi con l'utilizzo delle fasce, magari anche per il flusso di migranti, donne africane, donne dell'est che utilizzano questi supporti. Anche noi dell'Occidente ci siamo avvicinate a questo portare. Ci siamo un po' aperti a questo tipo di cultura. Quindi insomma prima di parlare un attimo delle caratteristiche dell'ergonomicità e quindi di come queste fasce e questi marsupi devono essere per poter essere adatti a portare il bambino, sfatiamo un mito, portare il bimbo in braccio non significa viziarlo e stare con la mamma. Esatto, non è vero, non crediamo a quelle vecchie pillole delle nonne, non prenderlo in braccio perché si vizia o magari lascialo lì nella culla a piangere perché così si abitua. Assolutamente no, non esiste questa cosa perché i neonati sin dalla nascita hanno bisogno del contatto, hanno bisogno che i genitori stiano tranquilli e rasserenino i neonati. È normale che i neonati che sono stati al contatto con le mamme per nove mesi necessitano della stessa cosa alla nascita in un ambiente extraterrino dove l'adattamento è per loro necessitudine di ricercare serenità e l'unica cosa che possono fare è avere contatto con le loro mamme. Magari se vogliamo ritornare alle vecchie ricerche o comunque ai vecchi esperimenti basta pensare all'esperimento di Arlo delle scimmiette dove delle scimmiette cucciole vennero lasciate all'interno di gabbie senza la loro mamma e le loro mamme vennero sostituite con dei sostituti cioè c'erano delle due sagome di metallo dove ad una mamma era stata posta una copertina morbida di cotone mentre ad un altro era stato posto un biberon. Queste scimmiette dov'è che andavano? Principalmente nella mamma con la copertina. Quindi è normale che nel momento in cui loro avessero fame si avvicinassero alla mamma con il biberon però il loro istinto sin dalla nascita li portava anche al contatto, a tenere il contatto con le mamme. A rappresentare il proprio senso di protezione di cui i neonati hanno bisogno che queste fasce, questi massupi possono garantire. Esatto, ma poi tanto contatto ai neonati non fa male perché nel momento in cui loro, io dico sempre, saranno sazi di questo contatto sapranno da soli quando è il momento di allontanarsi e di essere sicuri di sé e l'unica certezza ce l'ha il neonato, quindi lo sa lui quando è il momento di essersi abituato quindi ne avrà le scatole della mamma e quindi... Non rischiamo quindi di crescere bimbi mammoni troppo legati alle mamme. Esatto, assolutamente no, assolutamente no, anzi il contrario perché la mancanza di contatto dà sfiducia nei bambini quindi è normale non vedere la mamma sempre presente, non gli dà la certezza di averla lì quindi facciamo un esempio, la situazione dove accompagni il bambino all'asilo è normale che tu ritorni a prenderlo però è un bambino che non lo sa, non si fida della mamma è un bambino che piangerà in quel momento perché non saprà se la mamma ritornerà o meno perché non si fiderà poi quando si parla di portare non è che si vuole dettare una genitorialità ogni genitore è diverso da tutti gli altri, anche i neonati quindi è normale che ognuno sa il suo vissuto, sa quelle che sono le mura di casa come il bambino può reagire, eccetera il portare è soltanto una metodica di accudimento che sicuramente è migliore rispetto al non portare sicuro, i benefici ci sono invece tornando a quelle che sono le caratteristiche che queste fasce devono avere prima parlavi appunto di ergonomicità quindi l'importanza che queste fasce e questi marsupi seguano determinate caratteristiche determinate dettami nella loro formazione, nel loro essere fisico allora quando si parla di ergonomicità si fa riferimento ad una scienza che studia il rapporto tra uno strumento e l'essere umano in maniera tale che questo strumento, qualsiasi oggetto, non vada ad alterare l'umano in un certo senso molto lato nell'utilizzo, nel parlare delle fasce o comunque nei supporti l'ergonomicità sta proprio nel seguire quella che è la fisiologia del portato e del portatore quando si parla di portato si parla di neonato o comunque bambino e per quanto riguarda la fascia, la fascia è soltanto, soltanto tra virgolette alla fine è un pezzo di stoffa lungo che nella sua flessibilità, nella sua elasticità anche se parliamo di fasce di cotone, comunque avvolgono il neonato e la posizione accompagnando la postura del neonato quando si parla invece di supporti strutturati come il marsupio è necessario che questi siano ergonomici il portato, quindi il neonato sin dalla teneretà ha una struttura che non è come quella dell'adulto facciamo esempio riferimento alla colonna vertebrale il neonato ha una formazione AC, non ad S quindi non è del tutto formata allora magari quando andiamo a comprare un marsupio sarà necessario comprare un marsupio che gli permetta di mantenere questa posizione e non magari forzarlo in una postura più dritta come invece alcuni marsupi forzano ad esempio ci sono dei marsupi che sono molto duri e rigidi che non consentono questa posizione fisiologica del neonato lo stesso vale per la seduta il pannello di seduta dei marsupi è un pannello che deve garantire la posizione di gambe devaricate del neonato non gambe appese come invece alcuni supporti predispongono nonostante sulla scatola ci sia scritto ergonomicità cioè questo è anche magari un problema perché magari la mamma che non lo sa vede che ci sta scritto ergonomico e lo considera però purtroppo nel commercio ce ne è tante di queste situazioni quindi l'informazione magari previene anche nell'acquisto di un marsupio che sia valido e poi nel portatore magari quando si parla di marsupi anche il portato deve stare bene quindi deve poter scaricare bene il peso del neonato e quindi è necessario comunque che ci siano degli spallacci che non siano scomodi che ci sia un pannello una fascia ventrale che regga la posizione del neonato e che quindi invece non sia appeso e non gli faccia scaricare tutto sulle spalle in avanti quindi nel momento in cui si sceglie di portare è necessario farlo anche in una maniera più corretta sia per il neonato perché è normale che poi non si vada avanti nel percorso perché uno dei due si stancherà e quindi si fermerà quindi insomma per riassumere è importante che il bambino mantenga la formazione cosiddetta C diciamo della colonna vertebrale e la posizione di gambe divaricate che poi è la posizione che lui ha dalla nascita quindi nella struttura della colonna vertebrale dobbiamo cercare di dimostrare quella che è la posizione che lui aveva dalla nascita quando lo prendiamo in braccio sono bambini che comunque si accucciolano sul ventre della mamma e allo stesso modo hanno sempre le gambe divaricate e le portano in su allo stesso modo quando utilizziamo i marsupio o la fascia cerchiamo di avvolgerli verso di noi con le gambe divaricate che formino la cosiddetta M ovvero le gambe sono così flesse e piegate e le ginocchia sono un pochino più alte del bacino quindi loro stanno comodi così stanno comodi esatto e non hanno le gambe pensoloni un'ultima curiosità per quanto mi riguarda poi lascio la parola a Letizia fino a che età? insomma fino a quanti mesi si può utilizzare la fascia piuttosto che il marsupio? allora i supporti principalmente si possono utilizzare sin dalla nascita diciamo che nei primi 5-6 mesi è privilegiato l'utilizzo di una fascia sempre per il discorso del marsupio che è troppo rigido e può essere un pochino più fastidioso per il neonato quindi esistono diverse fasce in commercio magari le prime sono le fasce elastiche quelle che vengono più predilette ma perché hanno la possibilità di essere mosse e a volte su di noi con più facilità e poi invece passare ad una fascia rigida che ci può accompagnare fino ai 3 anni del neonato principalmente poi quando si parla di supporti neonato bambino quando si parla di supporti non si parla di età ma di peso quindi arriviamo anche ai 30 kg nel portare con le fasce o con i marsupi per quanto riguarda il marsupio ne esistono sempre di diversi e viene comunque accettato dai 6 mesi in poi perché i bambini hanno la capacità di rimanere seduti quindi da soli e non andiamo quindi a forzare la posizione e allo stesso modo reggono il collo quindi noi quando li prendiamo in braccio loro hanno la possibilità di girarsi se non sono forzati nuovamente nella posizione un'ultima cosa che tengo a dire è che quando affrontiamo questo percorso è da tenere sempre in considerazione che la posizione fronte mondo è sconsigliata la posizione fronte mondo è il bambino che viene posto non a contatto pancia a pancia con noi ma verso l'esterno perché in questo mondo sono bambini che sono portati male per sempre per il discorso della colonna vertebrale non hanno la possibilità di tenere le gambe nella posizione AM e bensì sono appesi nella posizione in avanti il portatore non scarica bene il peso e poi il bambino non ha alcun appiglio quindi se vuole poggiare la testolina non ha dove poggiarla e allo stesso modo se vuole poggiare le mani non ha quindi il sostegno invece che la posizione pancia a pancia gli dà quindi non è diciamo vero tra virgolette che è più opportuno fargli vedere la strada esatto no 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 perché poi no questo è questo guarda è un ragionamento che vale fino a un certo senso nel senso che i neonati da soli è vero arrivano in un periodo dove cercano di esplorare di guardarsi intorno e quindi quando li portiamo in braccio si girano nella realtà che ci circonda però i supporti come la fascia permettono anche di portare di lato quindi scaricando bene il peso e facendo stare comodi i neonati c'è la possibilità magari nelle passeggiate estive o nelle feste del paese di sostituirsi carrozzine, passeggini e invece utilizzare queste fasce che consentono anche in poche ore di stare comodi sia alla madre che ai neonati o bambini o non parlo sempre di mamme ma anche di papà, zi, nonne i papà si sentono sempre un pochino vestiti da parte ma in realtà l'utilizzo dei supporti va per tutti sì, sì, vale per tutti perfetto Leti, vuoi tu porre qualche domanda alla nostra finita? sì, ho diverse domande la prima è c'è un limite di tempo durante la giornata per portare la fascia o può essere diciamo più ore? no, no, non c'è limite nel senso che soprattutto nei primi mesi i neonati stanno sempre a riposo cioè loro dormono sempre a meno che non si svegliano per ciucciare e diciamo che la situazione di contatto li rasserena e non è scomodo per loro stare in braccio più che altro magari che ne so, le tre ore sì, l'utilizzo dei supporti come la fascia sono utili anche per la mamma, per le faccende di casa per lavorare al computer quindi lavorare da casa quindi consentono anche nei primi mesi di fare delle faccende o comunque di continuare quella che era la vita prima della nascita dei bambini perché non c'è il pensiero che magari loro si sveglino comunque di andare sempre a controllare se loro dormono o respirano insomma poterli tenere a contatto esatto, e fare qualsiasi cosa sì, nonostante ci siano loro in famiglia però non c'è un limite alla fine poi se si addormentano bene se prendono pure l'abitudine di tranquillizzarsi magari, che ne so, l'utilizzo dei benefici della fascia sono dei benefici che si riscontrano anche nella risoluzione delle colichette quindi anche i bambini che soffrono di colichette quando si sono rassurerati con l'utilizzo della fascia ma che possono essere anche comunque si dice scaricati quindi poggiati nella loro culetta non c'è né un pro non c'è un limite, un range però proprio per questo si può portare portare tranquillamente e un'altra mia curiosità ci sono bambini che poi rifiutano la fascia allora, per quanto riguarda il rifiuto io mi collegherei magari all'età del bambino all'inizio del percorso del portare perché se parliamo di neonati è difficile che i neonati lo rifiutino la rifiutino questa posizione sempre per il discorso che è un continuo di quella che era la vita in utero quindi loro ne hanno bisogno man mano cresce anche la mamma quindi nel percorso del baby wearing quindi se una mamma parlo di mamma parlo sempre di genitori o comunque di figure che si prendono cura dei neonati e dei bambini se loro hanno intenzione di continuare passeranno comunque ad altri supporti che accompagneranno tutto il percorso del baby wearing e quindi sarà un bambino che lo accetterà se invece iniziamo il percorso più in avanti con bambini che avranno già l'età di un anno e mezzo due anni saranno bambini che sapranno già camminare riconosceranno già la realtà che hanno intorno e quindi ci sarà un pochino di difficoltà nell'inizio però non è detto che loro sempre per il discorso del contatto della fiducia nei confronti della mamma riconoscano i benefici anche loro come può essere magari l'abbraccio di un bambino che ha la febbre ha l'influenza dove necessita delle coccole in quel momento lo riscontrerà con i supporti perfetto allora ringraziamo la nostra ostetrica Felicia grazie mille per essere stata con noi per i numerevoli consigli che ci ha dato sull'utilizzo delle fasce e dei marsupi noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata della rubrica delle mamme grazie mille